Il bello della città, è questo il titolo della nuova pubblicazione dell'IBS Editore, il cui autore è Salvatore Giacalone. Nella prefazione si legge un omaggio alla città di Mazzara. Sì, ho voluto fare un omaggio alla città per la vitalità, per la vivibilità che ha. Dico il bello della città perché è chiaro che ci sono delle cose che non vanno, moltissime cose. Però io ho voluto fotografare un po' quelle iniziative, quel sociale, quei personaggi che a un certo punto rappresentano un po' la bellezza della città. La bellezza della città non è solamente la monumentalità, ci sono anche partiziali, usi, costumi, usanti, eccetera. E questa è una fotografia, infatti sono delle monografie, non è che un romanzo, è una raccolta di monografie che fotografano un po' la realtà di oggi, quella che è Mazzara. E' quello che la vedo io come la vedo io, si intende. Un tuffo anche nel passato perché ho visto che si parla anche di antiche tradizioni come per esempio le tradizioni di Pasqua, quando si andava a Miragliano, San Vito. Poi ho voluto puntualizzare anche la questione del teatro, tu sai che io sono appassato di teatro, perché per esempio ci sono delle cose che i mazaresi forse non si accorgono. Per esempio c'è il teatro barocco che va in scena quando c'è le festività di San Vito, oppure anche il teatro di Paglia. E sono queste belle iniziative che i mazaresi dovrebbero seguire, perché questa è proprio la cultura che può avere l'essere, l'uomo. Ci troviamo tra l'altro in un luogo particolare dietro l'Alco Normanno, la vecchia terrazza del vecchio ristorante Alhambra, anche questa è una delle bellezze di Mazzara. Certo, una delle bellezze di Mazzara che fortunatamente l'Istituto Euroarabo va a funzionare con questa presentazione di libri, ne ha fatti diversi nel corso di questa stagione. Ecco, questa tua pubblicazione prelude ad altre, cosa dobbiamo aspettarci? No, no, non prelude allo stato attuale, non prelude a niente. Poi vediamo, poi del futuro non si ha certezza. E allora cercato questo libro interessante, Mazzaresi e non Mazzaresi, perché ci potete trovare tanto di quello che è, come dire, l'humus della città di Mazzara in questo momento e quello che è stato nel passato, davvero un'interessante lettura che vi prego di attuare al più presto.